Salve! Ciao Lollo! Ciao Gioele! Benvenuti su Ratorian Cut! Allora, location un po' diversa, come potete vedere. Siamo in mezzo alla natura, come piace a San Francesco. San Francesco, si viene da San Francesco. Perché piace a San Francesco, a natura. Allora, siamo qui oggi per andare a parlare del Grest. Ehi, 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 ehi. Buongiorno. Benvenuti a Grest. A TG Grest. Oggi parleremo di questa settimana di Grest appena passata. Barella, com'è andata questa settimana di Grest? Beh, bene, dai. Secondo te, Fenzio? Secondo me abbiamo fatto troppo casino. Eh, ma svegli. Fai la tua, me la domanda, che tu parli tutto. Com'è andata questa settimana di Grest, Pietro? Abbiamo fatto bordello. E basta, questa qua è stata. E ci siamo presi un bel castigo da mazzone, vero? Esatto. Partiamo da lunedì. Il lunedì abbiamo visto il film Encanto, abbiamo visto un pezzo. La parola del giorno era la famiglia. E abbiamo fatto un'attività proprio su questo, in cui? In cui nella prima attività dovevamo disegnare una persona che ne stava cara, della nostra famiglia. E nella seconda attività abbiamo giocato a famiglie medievali, che consistevano nella conquista dei territori. Passiamo al martedì. E siamo a martedì. Allora, alla mattina abbiamo fatto una messa con il nuovo Don, Alessandro. E niente, è stato abbastanza divertente. Poi al pomeriggio abbiamo fatto un gioco chiamato Oratorio Studio. E niente. Ti è piaciuto? Sì, a te. Sì. Puoi guardare il microfono. Ma come faccio a guardare il microfono? Posso anche parlare con lei. Passiamo a mercoledì. Siamo a mercoledì. Allora, mercoledì siamo andati in piscina Fara, nella piscina I Tre Re. E siamo andati su molti scivoli e siamo passati anche nel fiume lento e nella piscina olimpionica. A te, Samuele, è piaciuto? Sì, molto a te. Molto, è stato molto divertente. E poi abbiamo giocato a calcetto nel campo da calcio della piscina. Passiamo a giovedì. E siamo a giovedì. Allora, al mattino abbiamo visto un film, la parola era talento. Io compreso e anche gli altri animatori ci hanno insegnato a fare dei talenti. Il pomeriggio siamo andati nell'aula cinema, abbiamo fatto Grest Go Talent, in cui c'erano dei bambini che si esibivano per far vedere il loro talento. Ha vinto Mari Cacocci. E poi siamo a venerdì. E siamo a venerdì. Al mattino i bambini hanno decorato dei fogli che poi attaccheremo sui bidoni della raccolta differenziata. Invece al pomeriggio, Sofia? Il pomeriggio, grazie Alice per la parola, dobbiamo fare un gioco in cui i bambini faranno casino a tema Jumanji. Quindi speriamo vada bene. Questa è la fine della prima settimana di Grest e ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao!